3,2,1 Ah posso parlare? Posso spiegare questo programma che vogliamo fare? Riprenderemo tra il serio e il facendo Io non posso fare il serio Tra il serio e il facendo Il programma di approfondimento Nel senso prendiamo un avvenimento nella nostra città Non ci allarchiamo Ci saranno anche dei momenti in esterna Nel senso che io e Papo usciremo Non ci buttiamo in nessun posto Andremo in giro Ci sono le paperelle poi Sì Andrà in onda dalle 7.35 alle 8 del mattino I momenti in battenti per coni di giorno di venerdì E basta E basta E novità Ci saranno degli artisti emergenti Che ci porteranno e ascolteremo le loro estibizioni di canzoni E' tutto Ciao Arrivederci Ci vediamo Ciao Arrivederci Ciao 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 Ciao